Qui abbiamo la personificazione, secondo la maniera di convertire l'autentità, di otto pianeti. Ciascuna divinità è rappresentata da un oggetto identificativo e siede sul proprio carro. Sopra di me abbiamo Gena, la terra. Poi, senza lari, troviamo Chattuno con la pace. Lui con le aquile seduto in trono è Giove. Qui, sopra di me con la spada, abbiamo Marte. Poi abbiamo il sole con i cavalli malati. Vedere, si riconosce facilmente con le colombe e il filo. Poi abbiamo Mercurio, cominciare l'alti. E infine abbiamo Diana con proprio l'alti, il simbolo della Luna, proprio perché rappresenta la Luna. Quindi otto pianeti. Questa è un'idea.